Errori nelle intestazioni delle bollette idriche nel calcolo degli importi del consumo dell'acqua del 2019. Situazioni che hanno mandato su tutte le furie i cittadini di Terme Vigliatore, riversatisi in massa al Comune a chiedere spiegazione al sindaco Domenico Munafò. Un carosello continuo di utenti che nel mese di ottobre hanno assediato il Palazzo Comunale per capire perché sia accaduto tutto questo. Il primo cittadino prendendo atto di queste proteste ieri ha inviato una nota alla società media SRL di Carmignano, incaricata del servizio di stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento del servizio idrico. Si chiede di voler relazionare in merito ai recenti disservizi occorsi agli utenti di questo Comune, ha scritto Munafò, che hanno nociuto all'immagine del lente che rappresento e per i quali si chiedono formali scuse. Inequivocabili le parole del primo cittadino che per circa un mese ha ricevuto al Comune cittadini che protestavano per indirizzi sbagliati, utenze diverse e importi esagerati. Nello stesso tempo, in attesa che la società risponda, il sindaco ha avviato anche un'indagine interna per verificare se i disservizi siano stati determinati dalla struttura burocratica. La vicenda delle proteste dei cittadini è stata evidenziata anche in un'interrogazione che i consiglieri Daniele Biondo, Maria Rita Calabrò, Francesco Canduci, Domenico Feminòe, Manuela Ferrara, Fabio Valenti, Giovanni Zanghi e Stella Giunta hanno inviato al sindaco il 14 ottobre scorso. Sono stati segnalati nell'atto ispettivo sia in alcuni casi consumi elevati e poi errori nell'intestazione della bolletta con il risultato di ricevere anche bollette di altri utenti o addirittura più bollette. Risale al settembre scorso l'affidamento alla ditta toscana del servizio di stampa, imbustamento e spedizione tramite poste italiane per un importo di oltre 4.000 euro. Per oltre 5.000 euro alla stessa ditta è stato affidato anche il servizio di stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento dell'Atari 2020.